Ben ritrovati per un nuovo aggiornamento del tempo. L'anticiclone continua ad estendersi su buona parte dell'Europa continentale, ma da domani cederà rapidamente spazio ad un impulso in parte di origine polare, che entro mercoledì sera riuscirà ad incunearsi anche sulla nostra penisola con rapido crollo termico e precipitazioni, nevose fin su quote collinari. Intanto domani ancora solo in prevalenza sull'Italia, ma primi corpi nuvolosi sul nord-ovest con anche possibili piovaschi. In Abruzzo nessuna sostanziale novità per domani rispetto ad oggi, sempre cielo sgombro da nuvole. Per quanto riguarda la ventilazione invece risulterà in graduale rinforzo fino a divenire forte sui monti e sulle aree pedemontane dei versanti adriatici, il mare calmo quasi. Infine le temperature, causa l'attivarsi di venti di libeccio, sono previsti in ulteriore aumento, valori notturni di questa notte compresi tra 5 e 10 gradi, mentre in ulteriore aumento le massime di domani, che supereranno in molte località i 20 gradi. Buona serata a voi tutti da Marco.